bentornati su hermes channel web tv in una nuova puntata di sai che ciao pino ciao valeria come stai bene oggi ma come stai bene anche tu vuol dire che stiamo bene tutte e due va bene pensiamo pensiamo oggi al sai che quindi è un sai che è inerente alla natura la natura che ci circonda e molte volte finisce anche nei nostri piatti interessante vuoi vedere parliamo di lattughe la lattuga cioè è uno che sembrerebbe che la lattuga è una verdura che non vale niente ma la realtà ci sono ma tante tante qualità specie e praticamente hanno anche tante proteine e fa bene anche alla salute a quanto pare giusto e serve anche addirittura per decorare i piatti decorazione dei piatti sai quando arriva a tavolo e tu ci metti una bella insalata o perlomeno la lattuga perché la differenza fra insalata e lattuga è che la lattuga è la verdura in sé per sé mentre l'insalata che volgarmente noi diciamo mi dai una cosa di insalata e l'insalata non è altro che un insieme di verdure o di vari condimenti quindi in questo caso è insalata abbiamo fatto l'insalata un miscuglio di verdure o di qualsiasi altra cosa dobbiamo fare già un sai che su di te su di me è pesante va bene va bene allora qui parliamo qualità e relative proprietà di lattuga ci dà l'informazione rosalba sportelli dell'azienda agricola mesa di putiniano e prima di vederci il video naturalmente vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e di mettere sempre il mi piace e in più di mettere di cliccare sul campanellino che vi avviserà sui nuovi video mi è tolto le parole di bocca quindi vediamoci il video ciao a tutti ci troviamo a putiniano presso l'azienda agricola mesa con la seconda genita della famiglia sportelli rosalba che si occupa della vendita e della parte commerciale il sai che di oggi è dedicato ad alcune tipologie di insalata infatti ci troviamo in campo di insalate e cominciamo subito rosalba come si chiama questa insalata ciao a tutti allora questa insalata si chiama iceberg viene chiamata anche croccante date le sue caratteristiche consistenti e croccanti appunto e viene utilizzata molto spesso per l'industria però dalle nostre zone viene usata come consumo fresco quali sono le sue proprietà allora questa insalata ha numerose proprietà tra cui la facciamo vedere tra cui contiene il potassio che aiuta a contrastare molte malattie virali il magnesio il fosforo e il pota il potassio appunto che aiuta a rinforzare il sistema immunitario e a contrastare anche molte malattie intestinali inoltre contiene ferro che aiuta a contrastare l'anemia ed è molto leggera infatti può essere usata per molte diete è l'elemento principale per molte diete e quindi è alla base della dieta di un'ottima dieta mediterranea ma esiste solo questa varietà di iceberg allora di varietà ne esistono molteplici infatti questa insalata la troviamo sugli scaffali quattro stagioni su quattro poiché molte stagioni si adeguano all'ambiente e quindi riescono a sopravvivere anche con il caldo o con il freddo e quanto tempo passa dal trapianto alla raccolta dal trapianto alla raccolta passano circa 35 40 giorni dipende dalla temperatura e sappiamo che è pronta quando la consistenza del cocco è più uniforme rosalba e cosa serve per la crescita che prodotti utilizzate allora inizialmente al momento del trapianto utilizziamo un concime organico del tutto naturale e successivamente per proteggere la crescita di questa insalata bisogna fare attenzione a due fattori il primo alla notue che è un lepidottero che depone le uova e si vanno a formare dei buchi che vanno a mangiare le foglie la seconda riguarda i ristagni idrici e per far sì che non si creino si usa la zeolite e bisogna inoltre piantare le piante a distanza circa di mezzo metro per non essere ammassate la zeolite è inoltre una polvere di roccia del tutto naturale che si ricava da una roccia morbida e alcuni studi hanno dimostrato che si può anche mangiare grazie molto interessante e ora scopriamo un altro tipo di insalata eccoci qua rosalba è vero che ci sono le insalate lisce e ricce allora abbiamo qui la scarola liscia la la scarola riccia e sono entrambi hanno tutte e due le stesse proprietà sono ricche di acqua e quindi sono antiossidanti hanno molte fibre e questa è molto grande e utilizziamo particolarmente le foglie centrali per fare una bella insalata le foglie esteriori per cucinare in cucina si possono creare molti piatti tra cui un bel timballo possiamo utilizzarla anche per come come una cicoria e voilà eccola qua come vediamo il centrale è bianco ed è molto saporito leggermente amaro ma è quella amaro piacevole wow sempre un bouquet di fiori e adesso vediamo quella riccia certo andiamo a vederla eccola qua questa come la scarola liscia viene piantata nel periodo di settembre ma può essere piantato durante tutto l'inverno perché una pianta prettamente invernale e ha bisogno di circa 100 giorni per per essere raccolta questa le proprietà come la croccante e quindi contiene potassio magnesio ferro e calcio ed è quindi molto ricca di di proprietà bella proprio come i capelli miei uguale ok adesso proseguiamo con un'altra insalata ecco qua radicchio di solito nei supermercati lo troviamo di un altro aspetto poiché arriva già tutto pulito imballato e invece noi lo coltiviamo qui siamo tra i pucchi a coltivarlo qui si tolgono tutte queste foglie per avere il classico radicchio che troviamo di solito eccolo qui il rosso è perché contiene betacarotene quindi fa bene alla vista alla pelle inoltre l'amaro favorisce la digestione e quindi anche questo è molto utile per le diete ed è molto ricco di fibre quindi mi raccomando mangiate lo questa invece è la lollo liscia e viene utilizzata principalmente per guarni di piatti perché è molto bella esteticamente e anche questa è molto organolettica contiene vitamine sali minerali e fa quindi molto bene alla salute questa invece è la lollo riccia ha le stesse consistenze della prima l'unica cosa che è la foglia è più riccia e più carnosa e di queste troviamo diversi colori abbiamo quella rossa quella verde e quindi la utilizziamo più che altro per dare un colore alle insalate miste un colore anche ai piatti qua abbiamo le scarole ricce e sono particolarmente buone perché hanno un sapore agrodolce che favorisce la digestione e fa bene molto fa molto bene l'intestino questa è la scarola liscia e questa è la scarola riccia hanno la particolarità di essere agrodolci e per coltivarle queste non hanno bisogno di molto di molti prodotti ma hanno bisogno di solo dell'acqua e di tanta pazienza questa invece la romanella è una insalata molto antica poiché mentre la croccante è arrivata dall'america tanto tempo fa questa invece è nata nelle nostre zone e quindi è un'insalata molto tradizionale ed è molto buona anche questa la foglia morbida però piacevole nel palato grazie emilia rosalba è stato molto interessante grazie a voi per questa esperienza sei che può interessare coinvolgere anche te